Permesso. Ciao Dio, come stai? Io sono Minosse! Tu, ma chi cazzo sei? Ho parlato con Minosse. Mi ha detto che ha problemi con lo smistamento dei peccatori. Pare che sulla Terra negli ultimi anni si stia diffondendo una grande quantità di nuovi peccati. Io sono un hacker. Pensavo si potrebbe prendere Dante Alighieri e rimandarlo sulla Terra a catalogare i nuovi peccati. Poi, grazie ai suoi appunti, distrutturare l'inferno. Chi mi fa rabbia, Guida? Ancora il buon Vigilio? Chi è? Sono Dante Alighieri. Ma vaffanculo! Buon Vigilio! Sono Dante! Senti, facciamo così. Te lo dico io che mi manda in l'inferno. Tu scrivi. Non so, solo il pane. Grazie. Massimo! Vieni che sto già in coda, vieni. Dora, vieni che sto già in fila. Dori! 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 Dammi lo champagne che questa sera ci avvaliamo! Ci siamo fatti lo smartphone, vieni. Occhio che diventa una droga. Ciao, mi chiamo Simone e sono 47 giorni che non mi faccio un selfie. Sì. Ho voglia di una bella coca. Dai, metti la silena che c'è una seta. Il problema è grosso. Oh, Padre Pio, vai bene. Vista anche la stagione, possiamo fare un indultino. Un indultino primavera. Ma perché parli? Che manco stai sui calendari! Adoro! Amazing! Adesso lo dito subito hashtag bombazzo. Tu è proprio un mincacione! Papà, io vado a judo. Oggi ho una curiosità su Chris Pratt, il famoso guardiano della galassia e il protagonista di Jurassic World. Chris è sposato con Anna Faris, la biondina protagonista di tutti gli scary movie, conosciuta sul set di Take Me Home Tonight. Beh, tutti e due hanno uno strano hobby. Collezionano insetti morti. E pare che proprio questa passione sia stata a farli innamorare. Vieni a vedere la mia collezione di farfalle? E ce l'avevo davvero. Al prossimo video.